guarda questo che mi ha regalato guarda che roba, segna punti ah che figata questa cosa, non posso darti di più che figata questa cosa, fammi vedere un attimo ti do i punti, e ora ti do un punto indietro Paolo, aspetta è uscito zero mi sono rimasto con 10 pupacchi, è bello win win win, fuck everything else, win 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 cazzo non potevo muoverli da riserva ma è cazzo non deve te oh my god ma di chi sono? oh ma di chi è stato? oh guarda quelli, stavate ancora in quattro ah e questa arriva la prima spavata colco le tue macchie oh 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 e non so a ricerci cosa dovevo fare non so che sei bravo ma che cacchio cosa cosa no ma l'ho capito ma dici che sei da moci tu stai io eh l'ho capito ok possiamo aiutare adesso wow wow straggio stai facendo straggio oh straggio è arrivato in che sesso oh qua dovevo lanciare stage oh qua dovevo lanciare stage oh dovevo lanciare stage si è un genio oh la preferenza allora رish uh rish